L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è un ente pubblico di ricerca dotato di autonomia tecnico-scientifica, vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. ISPRA svolge compiti tecnico-scientifici ed interesse nazionale per la protezione e il controllo dell'ambiente. Al centro del suo mandato ci sono la protezione del suolo, la tutela delle acque interne e marine, la conservazione della natura, i controlli e le ispezioni ambientali per una gestione sostenibile del territorio. L'Istituto ha il compito di gestire e sviluppare il Sistema Nazionale di Informazione Ambientale, oltre a svolgere la funzione di servizio geologico nazionale. È focal point nazionale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e lavora in stretta collaborazione con le agenzie regionali e provinciali italiane attraverso l'SNPA, Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, istituito dalla Legge 132 nel 2016, il cui scopo è quello di assicurare che vengano applicati approcci e metodi uniformi e comparabili a livello nazionale. Lo svolgimento di questi compiti si basa su solidi presupposti scientifici e tecnologici, garantiti dalle attività di ricerca, fondamentale anche per le questioni ambientali emergenti. ISPRA è parte attiva di una rete di organizzazioni nazionali ed internazionali ed è coinvolto nello sviluppo di piattaforme e strumenti per collegare la ricerca ambientale alla politica, in particolare nel campo dei cambiamenti climatici e della biodiversità. ISPRA è stato avviato, ad esempio, con il nuovo sistema Copernicus, l'utilizzo dei dati raccolti dalla flotta dei satelliti climatici italiani attraverso la collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana ed altre agenzie. Le buone pratiche di gestione sono condivise con altre agenzie europee per trovare soluzioni innovative alle quotidiane sfide ambientali.